In questo nuovo video, raga, Brawl Talk domani E questo Brawl sarà della... Del cammino dei trofei, raga Trophy Road Trophy Road Speriamo che lo mettono a coppe basse Perché, raga, io l'ho perso al count Perché Emz si prende a 800 coppe, quindi... 8000 coppe 8000 coppe, quindi... Forse questo dice 10.000 coppe? Non lo so Vabbè, raga Cosa? Vabbè, raga Io sono io e tutto e ciao